buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde anche oggi continueremo a parlare dell'aggiornamento delle gradatorie provinciali per le supplenze biennio 2022 2024 cercando anche di dare risposta al motivo del ritardo della pubblicazione dell'ordinanza ministeriale per appunto l'aggiornamento suddetto domanda numero 1 come mai il ministero dell'istruzione non ha ancora pubblicato l'ordinanza ministeriale sull'aggiornamento gps 2022 2024 il problema del ritardo della pubblicazione dell'ordinanza ministeriale riguardante appunto l'aggiornamento delle gps per il biennio 2022 2024 è dovuto principalmente alla riscrittura del testo o almeno di alcune parti del testo che era stato inviato al csp e al consiglio di stato per i pareri tecnici per tale ragione l'apertura della piattaforma per la presentazione le domande è slittata già di una settimana domanda numero 2 è vero che il nuovo inserimento nella gps seconda fascia del sostegno è garantita a chi ha maturato in tre anni di servizio su sostegno entro l'anno scolastico 2020 2021 cioè l'anno scolastico passato beh nella bozza di ordinanza ministeriale per la g per l'aggiornamento delle gps inviata al consiglio superiore della pubblica istruzione c'era scritto che in seconda fascia gps sostegno si poteva entrare con tre anni di servizio fatti senza titolo di specializzazione su posti di sostegno ma entro l'anno scolastico 2020 21 dai rilievi fatti dal csp e dal consiglio di stato il ministero sta valutando se estendere all'anno scolastico 2021 2022 il calcolo del triennio del servizio sul sostegno necessario per accedere appunto la seconda fascia delle gps gradatori di sostegno domanda numero 3 il servizio prestato sulla scuola primaria senza il titolo di accesso può essere valutato anche come a specifico per la classe di concorso al 0 18 per un nuovo inserimento in gps beh se il servizio è stato prestato senza titolo e il docente non ha nemmeno acquisito il titolo successivamente il relativo punteggio scaturito da questo tipo di servizio non potrà essere caricato in nessuna classe di concorso speriamo che le risposte alle domande che ci avete diciamo mandato sia utile per tutti i nostri lettori continuate a seguirci sia sui canali social per quanto riguarda facebook youtube dove faremo delle dirette sul tema anche delle gps 2022 2024 seguiteci anche nel nostro sito www.tecnicadellascuola.it un saluto a tutti e alla prossima puntata arrivederci ciao 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 ciao